Benvenuti in un nuovissimo video da Strettareglie della Pegna Valbuena e Spindosa, andiamo con un po' di spagnolo E qua pronti per la grande sfida contro Salvatore Cavagnoli Riprende Lorenzo Rossi, eccolo qua E dai saluta E poi riprendi tu, saluta tu vai Saluta tu Erasmo Agnessi Agnelli, Erasmo Agnelli Avanti, grande sfida Mi sono sudato tanto signori, veramente 18-0, aiuto Sotto il bigliettino, sappiamo che, no? Sto aspettando un momento buono Ma che ne guardi? Ma in serio? Andiamo a mettere le sfide in serio Nooo Andai nessuno va sotto il bigliettino, è possibile È possibile Grande video, grande video Oh, vorrebbe tirare Passa lui E dai Oh riprendi pure le ragazze Saludano, chiedi che saluta no? Saluta dai, saluta le ragazze Ragazze, salutate Saluta dal video dai Saluta dai Aspetta, dai, salutate dal video Saluta dal video dai Sottimili Sottimili Dai, forse 2-1 2-1 ma sei Grande stragocia Sottimili Ho chiamato il 2-1 Ah, cavolo Che potenza sto portiere È fenomenale Che portiere Tu mi sono sentito veramente carico Hai visto? E 5-1 5-1 Vai È stato più forte 6-4 6-2 Tiro da lontanissimo Tiro da lontanissimo Non voglio Ti ho preso Uh, ho tirato col mingolo Col mingolo Vabbè dai, niente mi ignora Uh Ho tirato Tiro Tappala tutto Eh, no Dai, dai 8-2 Dai, sei A presto buon ming No